porca paletta guarda lì no resisti che sono schiettato ciao a tutti creeper e benvenuti in questo nuovo video di minecraft dungeon sempre con sisgi oggi andiamo nel canyon cacti se con tantissima roba sconosciuta wow guarda lì ok quindi mettiamo normale 3 che per il nostro livello eccoci qui allora il tempio distante ok questo coso l'ho acceso ho fatto cose ok attivato un ponte va bene andiamo andiamo qui se non mi sbaglio c'è il lama che mi piacerebbe tantissimo verlo guarda lì come arrivano i nani i nani ah ho visto negli ultimi commenti del video che si era fatto che qualcuno diceva che io ti trovo dei mechi si quindi questo video ti darò del voi benissimo i nanetti ok guarda lì oh cavolo ci sono dei sassi che sbucano qui perché c'è qualcuno che li evoca no mi sa che sono solo trappole sbucano a caso è questo qui guarda oddio questo scoppia boom ok cos'è questo ma chi è questo chi era oddio ma fanno dei muri ah può essere ok ah sì poi ho trovato anche un totem che ci cura quando stiamo per schiattare oltre questa balletta che spara cinque frecce velenose si è davvero p ma non fa niente evoca si è proprio lui che evoca queste cose oh cavolo sono mezzo morto ma guarda schiattaci maledetto costruttore di muri sarà amico di trump potere si oh un tesoro ricco oh epico ho trovato un'armatura incredibile te che hai trovato una balestra vediamo infuriato allora è più molto più potente della mia questa quindi riciclo questa chi se ne frega degli incantesimi e mi metto questa cosa qui che ha pure la candela in testa un pipistrello come animale domestico ma è bellissimo sta cosa io ho trovato un amuleto del potere devo vedere che fa non è proprio il massimo ok però c'è un pipistrello amichevole guarda lo che fa boh forse attacca e più due l'onda energetica e più uno ha fatto qualcosa pipistrello non so se ha scritto qualcosa sopra vediamo non ho capito forse sta attaccando oddio che disastro bomba cos'era guarda guarda non era fine per me sto utilizzando tutto ho buttato il golem della guarigione qui sotto io ho trovato qualcosa aspetta un'altra balestra no no mi tengo la leggo ok no aspetta questa pesante è lentissima ma credo che sciotti qualunque cosa no mi tengo la un portiere ok andiamo a vedere c'è una lama è una spada e fa 12 18 la mia un'altra balestra si pipistrello attacca fa un po schifo ma meglio che niente bellissimo davvero sciabola la provo vediamo se mi convince ok anche te proprio lasciamola uguale ok ma c'è un modo per darti le cose io no è una scemenza non si può fare forse però l'hanno messo per evitare che chi è di livello 200 dia le cose quelli che sono di livello 1 scorte come cavolo facciamo salire lì vedo tantissimi zombini che si aggirano eccoli ma guarda lì sopra il ponte guarda che roba oh cavolo stanno arrivando uso tutti i poteri che c'ho guarda ho messo il totem che cura lì tantissime anima quando c'è bordello uso il raggio e mamma ok ok abbiamo attivato un coso e cosa ha fatto non lo sapremo mai ok andiamo di qua ah devo attivare qualcosa posso togliere sta cavolo di scritta oh grazie che anche per tutto lo scorso episodio c'avevo sta scritta che mi diceva di premere t ma non me la fa levare dovevo mandare qualcosa ok dovevo attivare sti cosetti ora era un vacanza al mare stavo guardando un sacco di video di gente di gente proprio sulle badwords che pildrano senza lo shift io come fa ce l'ho fidato ogni tanto ci prova ma non ce la fa molto diciamo poi bestia è punto comunque sta cosa qui è bella ma neanche tanto quindi mi tengo il mio coso incredibile qui ecco attivo per ora di forza velocità ok sono usciti pure dlc a pagamento io ne dubito che mi ricompereva costano 5 euro l'uno poi sono due livelli per 5 euro due livelli stupidi no no c'è qualcosa da attivare qui l'ho attivato sì bene ne mancano di maia le devono fatte tutti perché le mucche droppano il maiale non c'avevano voglia di aggiungere tipi di carni diversi ma ok abbiamo attivato sto pontino ora di quanta gente mi sa che qui c'è il boss che sarebbe studiante cioè a quello che fluttua quello di sciamano può essere boom oddio è potentissimo che figata ma che bello questo è sovraesistente sì sì è bellino pigi 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 picchialo io sparo un'altra vista sciaboli non so cosa ho trovato ma ok no non la voglio brutta proprio brutta buttala via rigenerazione ok ok però mi sembra più facile dello scorso livello forse perché siamo più potenzioni guardarci però mi sono bloccato ok no guarda gli alberi perché non li mettono su minecraft normale queste cose ho buttato la tnt a caso attento ok un osi e dovrebbero mettere su minecraft queste cose qui guarda che belle palmi se l'hanno messe qui vuol dire che sanno farlo ma non ce n'hanno voglia guarda quanti ci penso io distrutti tutti ok vediamo un po poi tutto intricato ok qui c'è parecchia parecchia zona da esplorare sì credo che ci sia una zona extra di qua questo falcione è devastante che c'è qui serve una chiave che figo dovremmo cercare qualche parte ecco è lì suppongo vedo una chiave che dorme poi però ne serve un'altra allora la chiave laggiù è d'oro quindi penso che qui visto che c'è il cancello d'oro sia quella laggiù la chiave di me dobbiamo trovare quella blu credo e allora dovremmo andare ok qui c'è il ponte giù eccola lì no ma non me l'aspettavo ok io lo se ne si eh appena spawno il boss ah no questo evoca gente e basta no ho messo la cura oddio ho messo la cura un po troppo tardi però ok curati e non lo so ok sto facendo qualcosa sì grazie vivo e vai sono gesù che è successo la gente allora riprendo no gli ho tirato un colpo poverina vabbè l'ho presa adesso oh cavolo questi non c'erano prima creepers non si capisce se sto picchi strello fa qualcosa oppure no sì aperto e vai che devastazione ma poi ce ne sono due da attivare allo stesso tempo no da attivare a caso e basta quanto è bello studio sì io lo dico ogni volta a un livello nuovo come su geometri dash ogni volta a un livello nuovo le prendo di quanto è bello le prendo a te ho preso la chiave io l'ho presa io ma che figo qui c'è il tempo del deserto che c'è anche su minecraft normale eh sì dovremmo andare lì credo ah non l'avevo vista va bene no mi sta scappando la chiave che succede ah se ne stava andando vai apri mi disgraziata c'è pieno di gente ci penso io eh ok bomba sì che devastazione troppo le spalle dalla distanza troppa gente quindi ma questo è questo è il totem della cura se ci stai vicino ti curi sì sono salito di livello guarda un attimo se posso incantare qualcosa aspetta ok schiattateci ok vediamo no se però riciclo sta cosa brutta sì sì ascia di livello 3 ok andiamo cioè la lancia di livello 3 ma gente creeper tanti metto la cura tieni tizzali ok aspetta per voi qua secondo me c'è il boss mi sa di sì no ancora no sembra proprio una zona da boss ecco appunto lo sapevo che succedeva qualcosa ecco il manerotolo quanti oh cavolo via 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 si wow già fatto no ecco mi sembrava strano funghetto della potenza si ho piazzato una ceste no vabbè oh cavolo porca paletta guarda lì no resisti che sono schiettato no ti prego io cioè ti curo ti farò il suicidario ok ok sì grazie usa tutto quello che c'ho curo ok sì ho tantissime tantissime anime che appena posso uso il raggio sì sì ce l'hai il raggio maestro io quella roba esplosiva un pulsante esatto ah no non c'è un boss fine va bene ci hanno mentito allora quel coso volante non c'era vai spacchettiamo oh ho trovato il raggio grande credo io il totem che è più potente di questo coso esplosivo che c'avevo prima coso esplosivo che c'avevo prima